Questa rosa per oggi ha un significato particolare perché la dono a una signora che ha fatto parte della mia vita e che mi ricorda e ha creato assieme a me dei momenti bellissimi per quanto riguarda la mia vita professionale. Ed è un ritorno che celebro con grande affetto e grande anche commozione. Lorella Cuccarini! E' proprio l'ultimo dei romantici, bisognerebbe inventarti, guarda sono le esistenze. Prendi il maestro che vieni qua, vieni qua, vieni, vieni, vieni. Ma grazie, ma grazie.